Con Andrea Colli, Presidente del GS Reale Stato dei Presidi, siamo all'arrivo di questa Orbetello Alf Marathon. Presidente, l'obiettivo erano 600 iscritti, siamo arrivati a 670, un bel risultato. Siamo molto fieri di questa organizzazione, di questo evento, tutti hanno risposto bene. Ringraziamo tutti i partecipanti, tutta la popolazione che ci è stata vicino e ci dà una mano. E speriamo di continuare sempre su questa strada. Tra l'altro ci sono atleti giunti non soltanto dalla provincia di Corseto, ma da tutto il centro Italia. Signora che l'organizzazione funziona e questa gara inizia anche a farsi conoscere. Sì, infatti abbiamo l'apporto del nostro comune che ci sostiene, proprio perché gli iscritti a questa Orbetello Alf Marathon sono per più dell'80% residenti fuori provincia, fuori regione. Siamo alla nona edizione, ovviamente oggi si conclude questa gara, ma già è tempo di pensare alla prossima edizione perché per una gara così importante l'organizzazione non si ferma mai. Non si ferma mai, ha detto benissimo e infatti siamo già partiti con la decima edizione. Ancora deve arrivare il primo atleta della nona e già abbiamo iniziato i preparativi per la decima, anche perché per la decima edizione vogliamo veramente fare qualcosa di importante.